Ciao a tutti, sono Simone di Nerd or Nothing e in questo video vi mostrerò come utilizzare il K-Net Launcher che è praticamente un launcher di Minecraft che permette di giocare a più versioni differenti di Minecraft senza dover per forza installare MultiMC che sarebbe quello che crea praticamente diverse cartelle di Minecraft con versioni diverse quindi questo funziona tutto in un programma che non servirà a installare vi metterò il link per il download di questo file in descrizione e premessa allora per chi avesse già avuto una versione precedente cose così oppure anche un semplice Minecraft normale consiglio di fare una pulizia di tutti i file ovvero tipo tenersi i salvataggi se si vuole e eliminare tutti i file vecchi per evitare incompatibilità o errori strani che spesso a molti accadono e visto che ormai i problemi sono sempre tanti con Minecraft quindi consiglio sempre di fare una pulizia di tutti i file vecchi anche nella cartella app data e una volta fatta tutta la pulizia oppure per chi non avesse mai avuto Minecraft non deve fare niente basterà che posizionate questo file in una cartella dove dovrà contenere tutti i suoi file e io in questo caso dovrei avere la cartella qua ok la cartella di Minecraft potete avviarlo questa abbassiamola qua vi dirà che c'è una nuova versione disponibile solo che anche se fate update non fare niente quindi dategli semplicemente ok ed eccoci qua con un piccolo bug visivo vabbè facciamo sì insomma questa finestrella qua non so perché ci sia ma vabbè è un piccolo bug voi dovrete semplicemente nella finestrella che vi apparire che è come questa qua che c'è sotto però più centrata diciamo un pochettino più larga inserire l'username qua in questo caso potrei inserire un nuovo username se lo voglio cambiare ma in questo caso visto che l'ho già inserito semplicemente gli darò play e ok al fine è sparito il bug allora qui dovremmo semplicemente selezionare la versione di Minecraft che vogliamo ovvero su profilo qua ci sono diversi profili che ho creato io con le mod che ho voglia di mettere io insomma che ho voluto mettere ma nel caso voi vogliate giocare una versione diversa qua adesso è pronto quando gli diamo al play a farci partire la versione 1.7.5 se vogliamo cambiarla basterà fare un nuovo profilo che sarà questo bottone qua dargli un nome che vogliamo possiamo chiamarlo pinko pallino quello che vogliamo in questo caso possiamo chiamarlo si ecco e su use version possiamo selezionare da questa lista qua la versione di Minecraft che vogliamo per esempio potrei metterla 1.5.2 e fare save profile e sarà qua in lista si eccolo qua con la appunto se lo clicco ci uscirà da là gli diamo di nuovo play e sarà cambiato qua il numeretto per prepararsi a far partire la 1.5.2 se i pacchetti non saranno mai stati scaricati appena gli diamo play verrà fuori qua una barra di caricamento che scaricherà tutti i file come fa normalmente Minecraft la prima volta che si avvia altrimenti se ce l'abbiamo già ci metterà circa 5 secondi insomma dipende dal proprio computer ora rimettiamo default qua che è la 1.7.5 gli diamo play ed ecco qua la barra che inizia a caricare che wow che veloce devo averlo già scaricato per sbaglio allora non mi ricordo di averlo scaricato vabbè e intanto metto in pausa il video forse che è meglio o no no forse non serve dai avanti più veloce bravo ok perfetto il launcher si chiude si avvia Minecraft e basta andare su single player mamma mia quante mappe facciamo una nuova mappa tipo test facciamo anche creativa va e possiamo vedere che funziona tutto perfettamente appena si carica la mappa eccola qua ok si si sta caricando si perfetto perciò se avete domande o altre curiosità varie fatemi sapere nei commenti e divertitevi ciao a tutti